Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Neno e oggi siamo in compagnia di una persona speciale Chi è questa persona speciale? Avete visto appunto ci sono due sedie, è Gesù Ciao Gesù, come stai tu? Spero bene, va bene, ho fatto la rima Sì, sono delle tette queste due qua, sì, 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 ecco Vabbè, no, la persona è un mio amico, si chiama Edo, ciao Edo Ciao Perfetto, allora, che cosa abbiamo intenzione di fare Edo? Un bel cazzeggio su Omicor Esatto, però io non sono tanto convinto, cioè secondo me non possiamo farlo Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Sono convinto, andiamo col video! Ok ragazzi, partiamo e andiamo su Omigle Allora, Omigle, perfetto Video Consenti Speriamo di non trovare i tipi che si fanno le seghe Ciao Epic fail Ciao Ciao sconnessa subito sono due tette ragazzi gli piacciono? ma sono italiani? vabbè certo che siamo italiani raga com'è? tutto bene? ottimo ci vediamo più tardi ragazzi ciao ciao ragazzi ciao bello carini gli occhiali mi piace un gallo ciao che cazzo è questa roba vabbè oh eventualmente ci sentiamo era una figa che schifo con i peli così lunghi ma no scombustolato al massimo cazzo vuoi il mio D? sì oh dove stai? sì bye man eh vabbè però no non ti interessa che cazzo che cazzo dai ma scusa ehi la ciao ciao ti piace no? ci vediamo alla prossima sì 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 questo ciao che cos'è un fantasmino è quello? oh no cazzo ho mangiato un capello dai mi piace no l'unica cosa ascolta la prossima volta lui ha già 2 milioni di iscritti metti quello un pochino più nuovo ciao no è una parrucca tranquillo non mi piacciono grande zio vieni a vedere Luca vieni a vedere cosa sono i palle belle palle oh va che è il mio naso davvero ma vieni a vedere come no eh si invece guarda scusa eh mi metto un dito nel naso aspetta ah ah qui là ciao ciao Luca ciao Luca oh ti iscrivi sul canale che hai detto stai attento che sennò la maga dei rettocchiali viene a prenderti qui là ciao ciao scusa ciao scusa do you like my glasses glass glasses I don't know no glasses no glasses sorry sorry you are you americano no sono italiano ah ma scusa ma allora ma dovevi dirlo prima ma dai ma scusa è andata via la webcam scusa ma dovevi dircelo prima che ero italiano eh vabbè vabbè ciao amico ci vediamo ciao ciao quindi ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale mi trovate anche su instagram Nazareno Minesto trovate tutti i miei link sotto anche Edo è su instagram come Edo Remons si Edo Remons giusto perfetto e lui non ha un canale youtube giusto? si ce l'ho ma è meglio che non lo guardate ragazzi perché vi spaventate dai video di merda iscrivetevi anche al suo canale ovviamente va bene quindi ragazzi va bene quindi ragazzi bella 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 ci rivediamo al prossimo video ciao